ciao a tutti benvenuti sul mio canale oggi andremo a fare una decorazione che può essere utilizzata per l'albero come chiudipacchetto nel senso quando avete qui pacchetti belli voluminosi potete metterlo all'esterno col fiocco molto carino o per qualsiasi altro regalo ok andremo a fare nello specifico questo cucchiaino sembra un po anticato e anche uno di questi sul bianco la base cambia perché qui ho utilizzato un belge utilizzato un bianco poi naturalmente dipende molto che effetto volete dare al cucchiaino come vedete qui abbiamo lo stesso colore ma mentre qui più chiaro che più scuro ne dipende l'effetto che voi volete dare al cucchiaino ok nel tutorial io vi farò vedere questo quindi effetto un po più scuro se doveste utilizzare e farne uno e quindi lo voleste un po più chiaro nulla vi vieta quindi di utilizzare meno colore ok poi questi invece sono simili tutti naturalmente io in base ho utilizzato dei cucchiaini di legno non vi vieta di utilizzare però anche plastica come potete vedere ho fatto questo la base bianca con l'acrilico poi ho inserito con la colla questo cuore e poi comunque la decorazione qui è uguale non a veste naturalmente carte da decoupage o tovagliolini potete anche crearli io ho fatto creato anche questo ma giusto per farvelo vedere perché sinceramente a me non piace molto mi piacciono proprio molto queste alternative ed è con adesivi li potete sbizzarriti quindi noi adesso andremo a fare nello specifico questo meglio scusatemi andremo a fare quindi noi nello specifico questo come vedete e penso che il materiale lo abbiate quindi procediamo immediatamente la lista nel materiale e nell'info box ciao 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti.